Oggi noi siamo qui alla Firmier, a Villapendice, ad accogliere un primo gruppo di emigrati che sono in questo paese. Noi, nonostante le comprensibili preoccupazioni per questa esperienza nuova, siamo sfidati da questo fatto di avere tra di noi delle persone che vengono da molto lontano, che hanno sofferto e che sperano di trovare in Europa, non credo solo o particolarmente in Italia, un futuro. E anche come chiesa, come chiesa valdese, vogliamo accogliere queste persone sia sotto il punto di vista operativo, logistico, questo lo fa e lo farà benissimo la CSD, ma anche sotto il punto di vista di chiesa. Quindi io personalmente, nel mio breve messaggio, ho invitato chi sarà interessato di loro a incontrarci come chiesa, a incontrarci come persone a tu per tu e quindi sono messo a disposizione, anche sapendo qualche parola d'inglese, a incontrare questi nomi.